buongiorno sono a massagno e sono qua per mostrare l'appartamento di due mezzo locali sono al terzo piano di uno stabile con 5 piani e un totale di 12 unità si accede all'appartamento ci si ritrova direttamente nella zona giorno con la cucina e il salotto cena vista è proprio bellissima locale lavanderia adiacente alla cucina completo la lavatrice non fa parte dell'appartamento mentre resterà il lavandino accanto all'ingresso si trova anche il termostato per regolare la temperatura delle serpentine eccola qua la cucina spazio per un tavolo ce ne sta abbondantemente ce n'è abbondantemente scusate frigorifero e congelatore congelatore il suo frigorifero elettrodomestici sono di marca simens qui il piano cottura invece è a induzione questo e il forno all'aria calda sottostante per essere ancora puliti alcune le cose quindi dalla pastomiglia e dalla cucina si può accedere al primo dei due balconi questo ha una superficie di circa 5 metri quadri ecco comunque lo sfogo esterno a massagno zona adiacente abbiamo appunto la vicinanza all'accesso all'autostrada poi negozi diversi facilmente si raggiunge anche il centro città quella che è di 25 metri quadrati circa con porta scorrevole tripi vetri infissi in pvc e alluminio una bella vista aperta un bel balcone grande ok tapparelle sono tutte elettriche qui il videocitofono e da qua inizia la zona notte con il bagno bel bagno completo di water bidet finestra qui il lavabo a forma di onda con doppio cassetto specchiera con luce integrata e da questa parte la vasca da bagno con anche il vetro raschizzi l'appartamento tra l'altro ha una superficie utile lorda di circa 85 metri quadri con invece la netta di 65 metri quadrati eccola qua la grande stanza anche qua si ha la possibilità di regolare la temperatura del termostato i due produttori delle tapparelle rispettivamente della finestra e della finestra che dà accesso al balcone quindi con l'appartamento si ha a disposizione anche un posteggio in auto remessa si accettano animali è tutto siamo a disposizione per mostrarvi direttamente questi appartamenti contattateci grazie ti affitto